quadri di santità dalla parola alle opere si chiamerà così l'evento musicale artistico e canoro organizzato per il prossimo 22 novembre alle ore 18 nella basilica di santa croce ed inserito nel novero delle attività previste per la novena di preparazione alla festa liturgica di san vincenzo romano un progetto promosso dall'associazione vibrarte in collaborazione con l'associazione chiamami per nome nato dall'idea di elvira scognamiglio e fondata sulla biografia del parroco santo scritta da monsignor michele sasso dalla quale la docente è riuscita ad estrapolare ben cinque virtù sociali caratterizzanti l'impegno civico di san vincenzo coniugate contestualmente al suo ministero sacerdotale e confluenti in quadriscenici dei quali saranno protagonisti i ragazzi di chiamami per nome è un ponte d'arte che abbiamo già presentato all'interno di notte sacra l'intento è attraverso i giovani creare appunto un ponte che parte dalla parola dal vangelo della carità scritto da monsignor michele sasso dal quale la cara elvira scognamiglio ha selezionato dei testi che raccontano in particolare i valori sociali che san vincenzo romano ci ha trasmesso con la sua vita quindi un san vincenzo romano parroco ma anche cittadino torrese che attraverso la sciabbica la carità sociale l'umiltà del cuore fino alla sua massima più conosciuta fate bene il bene far rinascere la nostra città e l'intento è proprio questo partire da questi scritti per arrivare attraverso la musica la danza la pittura e quindi un connubio di tante arti a trasmettere questo messaggio dai giovani per i giovani e per tutta la comunità a dare profondità alla manifestazione anche la presenza del Red Choral Gospel diretto dal maestro Angela Camilleri chiamato ad esibirsi in tre distinti momenti con brani appositamente scelti e calibrati sono brani il cui testo è attinente al significato della nostra del nostro evento con san vincenzo romano e il messaggio è quello che tutti i giovani possono possono fare questo tipo di attività e possono approcciare al gospel e soprattutto attraverso la musica e il canto possiamo fare tanta solidarietà perché il coro è aggregante per cantare ma anche per altre cose il tutto incorniciato dalla maestria artistica della pittrice raffaella vitiello che per l'occasione presenterà una propria opera celebrativa dell'espressione più bella di san vincenzo romano fate bene il bene il quadro rappresenta san vincenzo romano è una sagoma all'interno ci sta uno specchio con la mano destra indica il cuore che lo dona al popolo al suo popolo lo specchio è un simbolo in cui noi ci possiamo specchiare per fare bene il bene quali sono i colori dominanti gli elementi che rappresentano la città all'interno di questa cornice tutta il legno il fondo è di colore blu azzurro e sul lato c'è il vesuvio e sull'altro lato è rappresentata la parrocchia e al di sotto c'è il mare e delle maniche che si rivolgono al santo e accolgono il suo cuore vi aspettiamo il 22 novembre alle ore 18 nella basilica di santa croce per un'esperienza spirituale e profonda di arte per la vita quadri di santità dalla parola alle opere